Parliamo con il mister De Crema a Bressan, una bella battaglia qua all'Odi, anche una bella partita, che gran bel gol, però ci sono visti anche dei grandi errori, specialmente delle difese. Sì, abbiamo fatto degli errori che non dovevamo commettere e abbiamo preso due gol che potevamo assolutamente evitare, però abbiamo giocato contro una squadra tosta, una squadra cattiva, una squadra che non ci ha fatto giocare e credo che sia stata comunque a livello agonistico e caratteriale un'ottima gara. Ti dispiace soprattutto per il pareggio preso a un minuto dalla fine, Zanoni lì così da solo in mezzo all'aria all'ultimo minuto, insomma è una cosa che non si fa. Abbiamo fatto un errore clamoroso, erano due settimane che lavoriamo su queste cose, su queste palle e l'abbiamo lasciato. E' anche vero che però c'era uscito Ferrari, che di solito è lui che va in marcatura all'interno e abbiamo perso proprio completamente tutta la linea e hanno fatto gol, è giusto così. Una gara comunque dopo la vittoria di domenica scorsa che conferma la bontà della tua squadra e di quello che hai fatto vedere fino adesso? Assolutamente, io credo che di queste partite in Serie D se ne vedano molte, non è perché la settimana scorsa siamo riusciti a giocare anche perché probabilmente la squadra avversaria ci dava l'opportunità di poterlo fare e giocavano loro e giocavano noi. Questa sera è stata più una partita agonistica, sul discorso agonistico, fisico e di tecnico si è visto, credo, poco e è finita così, ma sono assolutamente soddisfatto di questa prestazione dei miei giocatori.